Siamo con Paolo Aigno, fondatore di Banzai. Benvenuto a EconomyUp. Paolo, come stai? E soprattutto, come sta l'economia digitale italiana? L'economia digitale italiana sta recuperando un po' di velocità rispetto al resto del mondo. È comunque molto indietro. Siamo indietro di 5, 6, 7 anni rispetto agli altri paesi europei. E questo è un dato di fatto. Rispetto quindi all'Europa, non agli Stati Uniti? Rispetto all'Europa, sì, rispetto all'Europa. Basti dire che io mi occupo principalmente adesso di e-commerce. L'e-commerce in Italia vale il 3% del retail, negli altri paesi europei va dall'8 al 15. Quindi per noi ci vorranno molti anni per arrivare a quel livello e anche se oggi abbiamo una velocità maggiore, sicuramente il gap sarà molto difficile da colmare. C'è molto da lavorare. Ecco, noi abbiamo cominciato questa puntata con alcune suggestioni del 1996, l'anno in cui la società che avevi fondato con, se non ricordo male, con Carlo Gualantri, Matrix, lanciò Virgilio, il primo motore di ricerca italiano nato due anni prima di Google. Due anni prima di Google, è qualche giorno prima di Yahoo. È qualche giorno prima di Yahoo. Perché Virgilio non è diventato né Yahoo né Google? Ma guarda, innanzitutto c'è un tema di manico, no? Ovviamente diciamo che i fondatori di Google e tutto il contesto che è stato no Google sono di qualità sicuramente superiore a quella che eravamo noi e che poi siamo solo peggiorati nel tempo. Però il motivo fondamentale è la finanza. Come in tante domande che ci si fanno sull'economia digitale italiana, è in ritardo principalmente rispetto ai paesi europei, non si è sviluppata, eccetera, eccetera. Perché il capitale di rischio è un concetto molto lontano dalla testa degli investitori italiani e quindi le imprese, tranne qualche anno, due anni, insomma, a ridosso degli anni 2000, non sono mai state finanziate al pari di imprese di altri paesi. Quindi c'è anche un ritardo di cultura finanziaria rispetto alle nuove imprese? Assolutamente, perché la qualità delle persone, a parte i presenti, è sicuramente al livello di... Noi spesso andavamo in giro in quegli anni e non trovavamo gente che era molto più avanti rispetto a noi, eravamo più o meno tutti sullo stesso livello. Però è chiaro che quando uno ha dietro una finanza che lo spinge e gli dà molti soldi da spendere, è diverso. Rischiamo di ritrovarci nella stessa situazione oggi con le tante start-up italiane che stanno provando a fare innovazione? Peggio, credo. Cioè, allora, meglio da certi punti di vista, peggio da altri. Oggi c'è molta più... Beh, da noi c'è stata la crisi degli anni 2000 e poi ci sono stati 7-8 anni di deserto, ma negli ultimi anni, dal 2012-2013 ad oggi, c'è molto fervore, attenzione e cura anche da parte delle istituzioni verso il fenomeno delle start-up. E ci sono anche dei soldi, devo dire, per cui le start-up riescono a partire. Ma mentre, diciamo, prima degli anni 2000 poi c'erano anche i soldi veri per crescere, oggi c'è uno totale vuoto nella fascia, diciamo, di investitori che va dai 5 ai 20 milioni di euro, che è il momento in cui un'azienda poi ha bisogno di diventare vera. Quindi stiamo rischiando di allevare tantissimi nani? Stiamo rischiando di allevare delle aziende che a un certo punto faranno molta fatica a diventare vere aziende. Questo tu dici sia per la scalabilità internazionale sia... No, la scalabilità internazionale non sarebbe un problema, no? Perché oggi fare le cose dall'Italia o uscire dall'Italia, eccetera, non è difficile. Il tema è proprio il sostegno di finanziatori, che in Italia ce ne sono pochissimi. Ecco, abbiamo parlato finora dell'esperienza di Virgilio, primo motore di ricerca italiano, che poi fu venduto a Telecom Italia. Allora si chiamava, si è chiamata per lungo periodo Telecom Italia, adesso si chiama Tim. Ecco, avete fatto quella che oggi si chiama un exit, con un'azienda e non con un investitore o con la borsa allora. Ecco, era più facile allora vendere a un'azienda, a una start-up come Matrix, che aveva sviluppato Virgilio, o è più facile adesso, secondo te? Ma per una situazione di quel genere è più facile allora, perché uno, abbiamo parlato prima di uno dei problemi dello sviluppo digitale italiano, è la scarsa presenza della finanza. Uno degli altri problemi in Italia è che non c'è molto la cultura per le aziende, diciamo, grosse, e di comprare start-up in modo da comprare del know-how. Allora era un momento in cui tutto era spinto dalla finanza e quindi era abbastanza facile decidere di comprare qualche cosa. Oggi è molto più spinto da criteri di carattere industriale e la bassa conoscenza digitale che c'è all'interno delle aziende italiane e rende più difficile comprendere il valore dell'acquisizione di un'azienda digitale. Ecco, come ci ha ricordato Paolo Inno, tutto allora era spinto dalla finanza. Tutto quello che abbiamo visto finora accadde poco prima che scoppiasse la cosiddetta bolla di internet. Paolo, a voi la bolla non ha fatto male, anzi, diciamo che con la vendita Telecom allora a Matrix, il fondatore di Matrix andò particolarmente bene, avete fatto, appunto, come dicevamo, una buona exit. Secondo te, quali sono stati però gli effetti di quel crollo di borsa sull'economia digitale negli anni a venire? No, sono stati devastanti, soprattutto nel nostro paese. La, diciamo, la delusione, se parliamoci chiaro, noi eravamo spinti da desideri che con la finanza non c'entrava nulla. Tutti noi, non parlo solo di nodi Matrix, che erano quello di cambiare il mondo, nuove tecnologie, eccetera. Poi è arrivata questa enorme spinta da dietro, come se tu vai su una barchetta e ti arriva un vento a 60 nodi e che ci ha spinto tutti a fare anche cose che francamente erano non prioritarie dal punto di vista industriale. L'improvviso, in quei tempi, Tisca le valeva più di Fiat, eccetera, eccetera. L'improvviso calo dei valori e il fatto che tanta gente ci ha perso tanti soldi ha creato in tutto il mondo un po' di glaciazione. Poi la glaciazione è durata sei mesi negli Stati Uniti, un anno in Francia. Da noi è durata sette, otto anni. Quei sette, otto anni sono stati veramente un tempo perso, anche perché c'è stato il passaggio del digitale dall'essere una cosa, come dire, nuova al diventare un pezzo del tessuto della società industriale, sociale, eccetera, eccetera. E in quegli anni si è perso tanto. Ecco, c'è stato quindi anche un effetto probabilmente culturale, come tu ricordavi, all'interno delle aziende rispetto all'apertura al mondo delle start-up ed è un effetto negativo che probabilmente si sente ancora adesso sul fronte dell'open innovation. Ecco, Banzai ha fatto le sue operazioni di open innovation perché ha comprato delle start-up a studenti.it. Beh, è costruita su quello. Sì, giallo zafferano. Di fatto erano delle operazioni di acquisizione di progetti che erano nati all'esterno. Sì, il progetto di Banzai è nato come mettere insieme talenti, team e aziende, dargli un po' di finanza e soprattutto farli collaborare per costruire quello che è diventato nel tempo. Quello che è diventato nel tempo. Poi le avete rivendute. Alcune sì. Alcune le avete rivendute. Perché? Beh, noi abbiamo fatto due operazioni di, diciamo, focalizzazione che sono consistite nella cessione di Banzai Media prima dell'estate e di saldi privati dopo l'estate. I motivi sono abbastanza diversi. Diciamo, Banzai Media è un'ottima, è una bellissima azienda, leader di mercato e redditiva, ma con una dimensione tale da, come dire, bruciarsi la propria redditività negli investimenti che doveva fare, che doveva fare, deve ancora fare, per stare al passo con un mercato in cui ci sono due giganti come Google e Facebook. abbiamo fatto un po' di tentativi prima della cessione di Banzai Media di consorziare gli editori italiani che non hanno funzionato e comunque la strada verso la concentrazione era obbligatoria, no? Quindi, diciamo, il nostro passo verso Mondadori è sicuramente stato anche nell'interesse del preservare quello che avevamo costruito in questi anni. Per loro è stata l'acquisizione di un leader e quindi un'operazione che ha fatto senso per entrambi. Su fronte dell'e-commerce invece? Su fronte dell'e-commerce, beh, diciamo che ci ritrovavamo con due divisioni, una che è saldi privati, legata al mondo del fashion, dell'acquisto a impulso su prezzi scontati e con una velocità di crescita, diciamo, minore e poi è price che invece è nel mercato del tech and appliances che sta vivendo una fase di grande sviluppo. Nel mondo delle fashion, delle flash sales, rispetto a quello dei saldi privati, sono avvenute alcune operazioni di concentrazione nel corso degli ultimi mesi o dei primi mesi dell'anno che hanno portato a configurare un grande leader europeo che è Van Privé dopo l'acquisizione di Privalia, un numero due che era Cash Room Privé con il suo percorso di crescita e saldi privati rischiava di diventare, diciamo, un prodotto di nicchia o comunque con dimensioni molto, molto inferiori, per cui anche lì la concentrazione, diciamo, in quel caso ci è stata imposta dal mercato. Ecco, ma dopo queste scelte che avete fatto sia con Banzai Media sia per una parte dell'e-commerce, come definiresti adesso Banzai? Banzai oggi è E-Price, è un'azienda sana che cresce bene con un grande mercato davanti, che, diciamo, è uscita dai primi... diciamo, l'Italia ha vissuto due fasi dell'e-commerce, una è prima di Amazon e una dopo Amazon. Prima di Amazon eravamo in tanti, poi è arrivata Amazon che ha imposto un livello di servizio, di servizio superiore e prezzo inferiore, c'è stata la naturale scrematura degli operatori e, diciamo, oggi nel segmento i due principali player siamo sicuramente noi e loro, loro più grandi e centrati su un acquisto quotidiano, noi un po' più piccoli ma leader in alcune categorie di prodotto concentrati su, diciamo, gli investimenti della famiglia, no? Quindi gli elettrodomestici, insomma, le cose che costano e che hanno un processo decisionale complicato e un livello di servizio più alto che non semplicemente spostare un pacco. Questo è quello su cui siamo focalizzati, c'è una grande prateria davanti, no? Perché oggi anche quel mercato che è il mercato in assoluto più penetrato dall'e-commerce ha ancora più dell'80% nel mondo fisico ed è un 80% che velocemente si sposta verso l'online e noi siamo ben posizionati per cogliere questa crescita. Quindi Banzai a questo punto si concentrerà solo sui price? Solo sui price e sull'evoluzione dei servizi che si accompagnano alla vendita dei prodotti. E sempre e soltanto in Italia? Per il momento sicuramente la capacità di crescita e di creazione di valore che abbiamo in Italia è ancora preponderante rispetto a qualsiasi scelta estera. Quindi puntate sulla inevitabile crescita della fetta di commerce in quel segmento. Banzai è quotata in borsa dal 2015? Sì, un anno e mezzo. È stato un collocamento importante perché se non ricordo male è stato il primo collocamento dell'anno il primo collocamento di una grande impresa digitale in una borsa italiana poco frequentata in genere dalle piccole e medie imprese e in genere dalle imprese digitali. Quindi c'erano grandi aspettative. Un anno e mezzo dopo però il titolo ha perso metà del suo valore. Sì. Ecco, te lo aspettavi? Ve lo aspettavate? No, assolutamente no. Ecco, che cosa è successo? Cioè è stato il mercato finanziario che non comprende l'impresa digitale o è l'impresa digitale che non è ancora attraente per il mercato finanziario? So che sembra una domanda alla Marzullo però... Un po' alla Marzullo ma diciamo Sicuramente per quanto mi riguarda l'impresa digitale se io sono un'impresa digitale che non capisce il mercato finanziario perché francamente noi ci siamo quotati dicendo che avremmo fatto certe cose abbiamo fatto queste cose e poi l'azione ha continuato a scendere. Allora io credo che ci siano una serie di fattori per esempio quando noi andiamo all'estero tutti i fondi e gli investitori esteri capiscono perfettamente quello che noi facciamo anche perché parliamo con una persona che di solito è specializzata sull'e-commerce e fa solo e-commerce e quindi ha ben chiaro le dinamiche poi magari apprezza o non apprezza quello che facciamo ma insomma vediamo che ne ha ragione perché conosce il mercato. Tendenzialmente gli investitori italiani essendo comunque più piccoli, più generalisti hanno sul tavolo tantissime cose e quindi noi siamo una delle due aziende e-commerce italiane perché poi c'è, vabbè insomma a parte diciamo rilevanti c'è Yux e ci siamo noi Yux è principalmente rivolta all'estero e probabilmente lo sforzo di capire che cosa stiamo facendo è un po' eccessivo. Poi forse è stato un misunderstanding noi siamo un'azienda che quando si è quotata perdeva soldi e che ha detto perderò ancora soldi per un po' di tempo e lo stiamo facendo benissimo no lo stiamo facendo stiamo riducendo i nostri perditi andiamo verso la redditività però siamo un'azienda che ha oggi un EBIT negativo e questo credo che sia una cosa che il mercato italiano fa fatica a digerire. cioè non ha pazienza e non perché non vede la prospettiva è la solita storia il capitale deve rendere non deve essere non deve avere un rischio e quindi credo che valido principalmente sulla redditività e non sul futuro. A questo punto conviene restare in borsa? A questo punto ci siamo qualcuno ha comprato le azioni e quindi il nostro impegno è quello di vederci riconosciuto il valore sicuramente se confrontiamo il valore di Banzai rispetto a altre aziende in giro per l'Europa siamo fortemente sottovalutati è un gap che colmeremo in maniera naturale comunque il nostro business va in una direzione di positività e quindi prima o poi ci arriveremo. E-commerce adesso è il vostro core business però siete stati come Banzai tu sei stato, sei anche un grande esperto di editoria digitale che cosa facciamo di sbagliato in Italia in questo momento? Su questo fronte? Ma guarda l'unico errore che mi sento di imputare all'editoria italiana nel fronte digitale è quello di continuare a guardare nel proprio orticello fra editori italiani senza rendersi conto che in realtà c'è uno tsunami di dimensioni gigantesche che è rappresentato dalle piattaforme over the top insomma Google e Facebook poi di fatto che sta prendendo sempre più quota di mercato e quindi loro sono interessati a cosa si portano via l'un l'altro questo è il tema specifico dell'Italia quindi una visione provinciale diciamo una visione da bar senza accorderci che fuori ormai esiste altro poi di grande cose sbagliate non è che gli editori italiani stiano facendo grandi errori e tutta l'editoria nel mondo sta cercando un modello di business sostenibile ecco un errore che invece hai fatto tu? nell'editoria? non soltanto diciamo nella tua attività imprenditoriale tantissimi l'errore almeno per mia cultura personale e anche della nostra azienda è un momento di apprendimento quindi avere il lusso di sbagliare come anche avere il lusso so che sei un'eresia ma di sprecare qualche soldo ogni tanto per fare un esperimento è fondamento dell'apprendimento e dello sviluppo allora dici un errore è una lezione quindi che questo errore ti ha lasciato ma diciamo che allora posso dire che un errore se vado indietro indietro nel tempo ai tempi di Virgilio è stato quello di farsi guidare troppo dalla finanza perché poi curiosamente due anni dopo che ero uscito riguardato i business plan pre-bolla diciamo pre-spinta della finanza e dove era arrivata l'azienda era grosso modo dove pensavamo che sarebbe arrivata e quindi stare più attenti ai valori veri le dinamiche vere non tanto al valore di mercato quello è stato è stato un errore che probabilmente poi ci ha indotto a seguire una strada che forse avremmo potuto non seguire perché noi in realtà quando abbiamo accolto nel capitale Seat e poi di Agostini e poi Telecom eccetera eravamo una società finanziariamente indipendente cioè ne abbiamo cercato soldi per 4 anni poi a un certo punto abbiamo cominciato a fatturare ad essere inutile e a quel punto sono arrivati tutti a cercare di investire ecco per chiudere io ricorderei che Banzai è il grido dei soldati giapponesi in onore dell'imperatore non solo ecco come perché cos'era Banzai per voi quando avete dato questo nome alla società ma in realtà l'idea iniziale era di chiamarla Bonsai perché mettevamo assieme tante cose piccole ma poi Bonsai non crescono e quindi l'abbiamo cambiata in Banzai che vuol dire lunga vita all'imperatore all'imperatore però questo grido veniva utilizzato anche in battaglia ecco ti stai per caso preparando a qualche nuova battaglia? no sto vivendo una battaglia che è quella della come dire portare avanti il percorso di Banzai che è nato stiamo parlando ormai di 7 anni fa e sta diventando un player industriale importante ma ha ancora bisogno di alcuni anni di sviluppo davanti a sé questa è la mia battaglia quindi e-commerce abbiamo detto non vedi altri business emergenti visto che tu hai già previsto in passato la crescita di internet della tv on demand stai per caso guardando su altri fronti? no vabbè un fronte di cui mi occupo lateralmente è quello del diciamo del digitale nel mondo della medicina io sono presidente di un'azienda che fa sistemi di screening oncologico e devo dire che insomma non ci lavoro ma vedendo quello che succede in quel mondo lì ciò che il digitale potrà portare può portare già oggi per la salute è impressionante in termini di quantità di vite che si possono salvare e soldi che si possono risparmiare ecco mercato enorme ne parleremo in un'altra occasione senz'altro perché è un tema affascinante grazie fra qualche anno fra qualche anno grazie per essere stato con noi grazie a te